Taranto ha già dimostrato il suo legame forte con la pratica sportiva, così l'assessore allo sport del comune di Taranto, Gianni Azzaro, a Roma la cerimonia di Aces Europe nella sede del CONI per la consegna dei riconoscimenti di regione, capitale, città europea dello sport. Taranto, candidata al titolo di città europea per il 2025, tappa di avvicinamento ai giochi del Mediterraneo del 2026, ha ricevuto l'investitura ufficiale insieme alle altre concorrenti, davanti ai vertici dello sport nazionale durante la cerimonia di Aces Europe a Roma nel Salone Donnure del CONI. È stata un'occasione importante anche per ribadire alcuni concerti dello sport, che sono quelli dell'inclusione, della formazione, della partecipazione, della promozione turistica, nonché volano economico. Ci accingiamo ad avere questo importante riconoscimento per il 2025 e dovremmo consegnare il dossier entro la fine del mese di giugno. Successivamente, nel mese di settembre, avremo come ospiti la commissione che valuterà tutto il nostro lavoro. Durante la cerimonia sono stati premiati i comuni italiani riconosciuti per il 2023-2024. Faremo di tutto per portare a casa questo importante riconoscimento che sarebbe un ottimo apripista per i giochi del Mediterraneo del 2026.